Crescono in maniera esponenziale i numeri della pandemia da Covid in Friuli Venezia Giulia. In una settimana i positivi sono quasi raddoppiati. L'incidenza di Trieste è doppia rispetto ad ogni altra città d'Italia. Medici di base sotto assalto, allarme all'ordine dei medici. Il presidente Tiberio, sempre più difficile dare risposte complete ai cittadini. Appello alla terza dose per distinguere tra influenza stagionale e pazienti Covid. Servono altri 150 milioni di euro per togliere 5 passaggi a livello che dividono in 2 la città di Udine. Il sindaco Fattanini chiede l'intervento di RFI, chiediamo che il passante venga usato anche per i treni passeggeri. Telefriuli si rinnova e lancia le novità del Palinsesso 2021-2022. Tra nuovi volti femminili e tante conferme da Cocco di Mamma, Messede che si tacca e tutte le novità della prima televisione regionale. Il CT della Nazionale Daniele Pontoni ha selezionato i 22 ciclisti che parteciperanno agli europei di ciclocrossi. Il programma in Olanda è il prossimo fine settimana. Punto di diamante la meianese Sara Casasola. Buonasera e ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apertura dedicata ai dati della pandemia con il report della Fondazione Gimbe che certifica l'aumento esponenziale dei casi di Covid-19 in Friuli, Venezia e Giulia. L'incidenza di positivi ogni 100.000 abitanti e più del doppio di ogni altra città d'Italia. La nostra regione è la prima a superare il 10% di occupazione delle terapie intensive. In più pochissimi hanno effettuato la terza dose, uno su quattro dei soggetti immunocompromessi e uno su cinque degli over 70. Aumento dei casi del 70% in una settimana. Incidenza regionale a 187 con il superamento delle soglie del 5% di occupazione delle aree mediche e del 10% delle terapie intensive. Il report settimanale della Fondazione Gimbe certifica per la nostra regione il trend in aumento di tutti i valori legati alla pandemia da Covid-19. Un trend in realtà generalizzato. Sono solo 5 su 21, contando separatamente trend Bolzano, le regioni e le province autonome in cui la variazione di nuovi casi sia ancora in negativo. E solo in una, l'Emilia Romagna, l'incidenza non è aumentata rispetto alla settimana precedente. Maglia nera per l'incidenza nazionale nella settimana del 26 al 2 novembre è Trieste, con 376 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, più del doppio della seconda provincia, quella di Bolzano, ferma a 148. Terza, spinta in particolar modo dal Monfalconese, è Gorizia, con 121 casi ogni 100.000 abitanti. Il Friuli Venezia Giulia è anche la prima regione italiana a superare nuovamente il 10% di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, seguita da Marche e Umbria. Per quanto riguarda invece le aree mediche, l'occupazione si ferma al 6%. Risale in classifica anche se lentamente per quanto riguarda invece la campagna vaccinale. In Friuli Venezia Giulia si è vaccinato completamente il 73,8% degli abitanti, con un ulteriore 3,4% che ha effettuato una sola dose. Il dato nazionale è di 75,7% che sale a 78% considerando la prima dose. Ultima in questo caso Bolzano, dove solo due persone su tre si sono vaccinate. Per quanto riguarda la terza dose, nella nostra regione solo uno su quattro degli aventi diritto ha ricevuto l'inoculazione aggiuntiva riservata alle persone immunocompromesse, dato che crolla al 17% per la dose booster riservata agli over 70, operatori sanitari over 60 e ospiti delle strutture residenziali. Allora andiamo a vedere i dati dei contagi di oggi, 483 le nuove positività e da triple rispetto a quello di ieri quando erano stati 153. In particolare su 6.114 i tamponi molecolari sono stati rilevati 455 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,44%, sono in oltre 16.546 test rapidi antigenici realizzati dai quali sono stati rilevati 28 casi, 0,17%, 3 purtroppo i decessi, tutti a Trieste, due uomini di 78 e 79 anni che si trovavano rispettivamente in una residenza sanitaria assistenziale nel presidio ospedaliero universitario dove si trovava anche la terza vittima, la donna di 82 anni. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 16, mentre i pazienti in altri reparti sono 98. Alla luce dell'incremento dei focolai di Covid, la Regione sta riorganizzando le strutture sanitarie. Al momento i reparti Covid sono concentrati negli ospedali di Udine, Trieste e Pordenone. In Friuli Venezia Giulia continuano a crescere i focolai di Covid, ma in modo particolare nell'area giuliana, nelle scuole e nelle case di riposo. Abbiamo appena visto i dati della giornata, raggiungiamo circa 500 casi, 300 di questi sono Trieste. Sicuramente la popolazione forpita riguarda la popolazione scolastica anche, c'è un problema anche di contagio nelle strutture delle residenze per anziani. Diciamo che il dato sicuramente si presenta con una circolazione importante, ma questa circolazione importante comincia ad avere sicuramente una domanda ospedaliera più alta rispetto a alcune settimane fa, ma comunque resta con una tendenza che, almeno per l'area medica, è a metà della soglia definita per cambiare colore. Ma è prevista l'istituzione di reparti dedicati ai malati Covid come nella prima fase d'emergenza? Lo faremo, al momento lo stiamo facendo, concentrando queste risposte nei tre grandi ospedali, quindi a Pordenone, a Udine e a Trieste. Speriamo di riuscire a contenerlo lì, perché se dovessimo avviare delle manovre anche negli ospedali Spoke, significerebbe che avremmo raggiunto una dimensione di contagio con una domanda ospedaliera elevata che tutti speriamo di poter evitare. E ormai scontro aperto tra i movimenti No Green Pass e i primi cittadini di Trieste e Udine. Nonostante le ordinanze, le prese di posizione, i No Pass hanno indetto due manifestazioni. La prima in Piazza Libertà Udine e la seconda nel capoluogo regionale. Se non di sfida, quantomeno di posizioni difficilmente conciliabili, si può certamente parlare. Lo scontro tra i sindaci di Udine e Trieste, Pietro Fontanini e Roberto Di Piazza, e i manifestanti No Green Pass sembra essere arrivato al limite. Nella settimana, iniziata con lo sfogo del presidente regionale Massimo Federighi e le ordinanze congiunte dei prefetti e dei primi cittadini, i movimenti No Vax e No Pass hanno indetto due manifestazioni, venerdì e sabato, rispettivamente a Udine e Trieste. La prima, quella friulana, si terrà interamente in Piazza Libertà. Del resto, l'ordinanza del prefetto Marchesiello e del sindaco Fontanini ancora non è arrivata. E quindi, al momento, Piazza Libertà può ancora essere al centro di manifestazioni. Novità però si attendono nelle prossime ore, con la ferma intenzione del sindaco di impedire l'uso della centralissima piazza, ripiegando piuttosto su Piazza 20 Settembre o la zona dello stadio, finché in Piazza Primo Maggio ci sono giostre e bancarelle. A Trieste, invece, niente Piazza Unità d'Italia. In partenza, il divieto del prefetto Valenti verrà rispettato e il corteo è stato autorizzato lungo un altro percorso. Resta da capire se i manifestanti accetteranno le regole fissate dal sindaco di Piazza, che ha stabilito l'obbligatorietà di mascherine e distanziamento e l'individuazione di responsabili della sicurezza da parte degli organizzatori, per verificare l'effettivo rispetto delle regole pena-multe-severe. Soprattutto questo è il punto che più lascia perplessi e preoccupa gli organizzatori del corteo e solo sabato si saprà se accetteranno o meno. In campo contro il Green Pass sono scesi oggi anche gli agenti di commercio del Friuli Venezia Giulia. L'obbligo del Green Pass al lavoro ci sta creando grossi problemi, ha detto il presidente di Usarci, Udine, Trieste e Gurizia, all'Unione Sindacati e Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani, Domenico Papa. In regione circa il 20% degli agenti di commercio non è vaccinato e alcuni comparti registrano un calo di fatturato anche del 15%. Nell'ultima settimana un vero e proprio assalto agli ambulatori dei medici di base per escludere che le virosi stagionali siano legate al Covid. In alcuni laboratori si seguono anche 60 pazienti al giorno. Nell'ultima settimana è un vero e proprio assalto agli ambulatori dei medici di base che in alcuni casi seguono almeno una sessantina di pazienti al giorno. Oltre al fatto che sul territorio il numero di medici di famiglia è diminuito, vi è un forte incremento di virosi che colpiscono anche intere famiglie. Soprattutto adesso che la stagione inizia con le prime virosi, con le prime difficoltà, diventa un pochettino più difficile dare risposte complete. Ci troviamo proprio a rispondere a delle virosi respiratorie che nella situazione anche Covid, della pandemia Covid, pongono le diagnosi differenziali. Il presidente dell'ordine dei medici di Udine, analizzando la situazione contagio, impreoccupante aumento a causa della variante Delta, lancia l'appello a vaccinarsi con la terza dose. Non dimentichiamo che le persone che hanno ottenuto la seconda dose nel primo quadrimestre erano le persone a rischio, quindi le persone come il personale sanitario, i medici, erano le persone che erano più fragili. E quindi è opportuno, visto che il calo della risposta anticorpale dopo i sei mesi è piuttosto marcato, è opportuno che tutti sappiano che devono approcciarsi alla terza dose dopo i sei mesi. Le notizie di Cronaca, un 73enne di Gorizia è morto a Negato questa mattina dopo aver perso il controllo della sua Citroen, ad essere finito in un canale a San Canzian di Sonzo, inutili soccorsi prestati dai sanitari e dai pompieri rilievi della polizia stradale. Un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita ieri sera nella sua casa di tricesimo, a dare l'alarma ai parenti, inutili i soccorsi, non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso, soprattutto per un malore fatale. Via Libera del Governo ha due importanti opere per il Friuli Venezia Giulia. Da Roma arriveranno 49 milioni di euro per la realizzazione della cabinovia del Porto Vecchio di Trieste a Opicina, mentre più di 40 milioni saranno destinati alla Ferrovia Udine Cividale. Il Ministro ha dato il via Libera due nuovi importanti progetti per il Friuli Venezia Giulia. Sì, continua il lavoro importante che il PNRR sta realizzando anche nella nostra regione, con due progettualità strategiche. 41 milioni di euro per la linea ferroviaria Udine Cividale, importante per ammodernare tutta la linea ferroviaria su questo tratto e fare in modo che diventi ancora di più competitiva anche con lo scambio merci, che è una delle sfide che FUC aveva in cuore e che sta realizzando. E poi 48 milioni di euro per un progetto relativo ad una ovovia in comune di Trieste. Servono altri 150 milioni di euro per togliere 5 passaggi a livello che dividono in due la città di Udine. Il Sindaco Pietro Fontanini chiede l'intervento di RFI, chiediamo che il passante venga usato anche per i treni passeggeri. Perché quella tratta lì può essere eliminata, c'è l'alternativa, c'è il passante esterno alla città che permette di far passare tutti i treni esternamente per andare su verso nord, verso la Ponte Bana, insomma la grande linea ferroviaria. Adesso attualmente tutti i merci passano già esternamente alla città, mancano i passeggeri, i treni passeggeri e qui bisogna che RFI, che è la responsabilità della rete ferroviaria, faccia uno sforzo di 150 milioni per realizzare in pratica il raddoppio del passante. Questa è la richiesta che stiamo facendo tutti, penso che siano tutti d'accordo, da sinistra a destra, di fare questo lavoro. Speriamo che a Roma ci ascoltino, ci sono così segnali positivi, però ancora una decisione per stanziare questi 150 milioni non è stata presa. Intanto si stanno utilizzando 50 milioni per ammodernizzare la stazione ferroviaria di Udine, però mancano, ripeto, altri soldi per realizzare questo passante esterno in maniera completa, per far passare tutti i treni e quindi abolire questo tratto di linea che va dalla stazione ferroviaria di Udine al Bivio Vatte e quindi permettere poi di abolire i passaggi a livello. L'assessore regionale Alessia Rosolen ha tracciato il bilancio delle misure regionali per il diritto allo studio e ha lanciato le sfide che fanno i conti con il calo demografico. Da un lato la preoccupazione legata al calo demografico, dall'altro la soddisfazione per l'aumento delle borse di studio e delle risorse dedicate ai 164 mila studenti tramite le norme del diritto allo studio. Alessia Rosolen, assessore regionale dell'istruzione e università, ha tracciato il bilancio delle attività di Ardis. Le nostre università rimangono comunque attrattive e il nostro sistema DTS riesce a tamponare la fuga dei ragazzi dal sistema educativo di istruzione e universitario alla fine della secondaria di secondo grado. Nell'anno scolastico appena concluso, Ardis ha erogato a poco più di 10 mila beneficiari una media di 180 euro come dotascuola per ridurre i costi alle famiglie e delle superiori. Sono invece 1160 i contributi forfettari per i nuclei familiari con studenti iscritti alle paritarie. All'università sono state erogate 5690 borse di studio, mentre per quanto concerne gli alloggi sono complessivamente 1000 quelli gestiti da Ardis. Noi stiamo cercando di intervenire appunto nella razionalizzazione per essere pronti a qualsiasi tipo di richiesta e di progettualità che emerga dal PNRR. E stiamo cercando di lavorare sui correttivi rispetto ai regolamenti nazionali che ci consenteranno di far accedere membri della stessa famiglia a parità di condizioni nel sistema di diritto allo studio. A questo si aggiunge l'obiettivo di allargare la platea delle agevolazioni per il trasporto pubblico per tutti gli studenti con un 20% sugli abbonamenti mensili e del 30% per gli over 26 e poi contributi annuali a Uniud per gli studenti più merotevoli. Manca pochissimo all'apertura del nuovo parcheggio creato nell'area dell'ex frigorifero. A garantirlo il vice sindaco di Udine Loris Michelini dopo lo che è ricevuto dalla soprintendenza per il posizionamento dei nuovi pali della luce. La consegna dei lavori ha subito ritardo di circa nove mesi rispetto a quanto ipotizzato inizialmente. Più di un anno fa infatti era stato aperto il cantiere. Noi abbiamo completato tutti i lavori mancano i pali della luce e l'illuminazione elettrica che era prevista in un secondo tempo. Abbiamo avuto l'ok anche della sovrintendenza e quindi era luce sta posizionando i pali. Nel frattempo SSM che prenderà in gestione, in carico il parcheggio metterà la macchinetta del ticket e toglieremo i due portoni che sono importanti per rimetterli a posto. Credo che anche lì sia questione di poco. Appena sono attivati i lampioni, ovvero i pali con i lampioni e qui apriremo il parcheggio, un parcheggio che è molto importante perché ha 206 posti auto. L'area in cui si trovava Cascina-Mauron rimarrà verde. La sovrintendenza ha bloccato la piantumazione di alberi come previsto dai programmi, a meno che non siano effettuati rilievi per verificare la presenza o meno di reperti funebri romani. ferma al momento anche la realizzazione dell'ascensore che porta al castello di Udine fino a quando non saranno ultimati i controlli sul suolo, richiesti sempre dalla sovrintendenza. La sovrintendenza sta rallentando gli interventi del comune di Udine. Cominciamo dalla zona di Cascina-Mauron. Cascina-Mauron è stata una sorpresa perché ci hanno detto di fare dei sondaggi, almeno 12, in questa superficie dove c'era questo edificio che è stato demolito perché era ormai decadente e quindi abbiamo creato questo spazio verde attualmente. Loro ci hanno detto che per mettere delle piante dovete fare dei sondaggi per verificare se ci sono delle tombe romane. Allora, fare i sondaggi non è una cosa che si fa in 5 secondi e soprattutto non sono cose gratuite, ci sono dei costi e io a questo punto ho rinunciato. Vado a piantare gli alberi da un'altra parte della città e rinuncio a questa parte di Cascina-Mauron. Poi c'è il problema del castello. Noi vogliamo realizzare un ascensore già finanziato, ormai sono due anni che stiamo dibattendo su questo argomento. La sovrintendenza ci ha chiesto tante indagini ma non sono finite. Adesso la sovrintendenza sta facendo degli scavi a costo del Comune sempre, siamo sempre noi che paghiamo e speriamo che finisca anche questa storia qua, perché vorremmo realizzare questo ascensore per agevolare la salita su al castello, allo spiazzo del piazzale del Colle, che è una cosa bellissima, perché se no non riusciamo a realizzare le opere, soprattutto i costi aumentano in continuazione e anche le spese per il Comune per fare questi sondaggi. La Giunta Comunale di Udine ha assunto una delibera di natura tecnica per specificare quali siano gli immobili di tipo abitativo del patrimonio disponibile e indisponibile con lo scopo di fornire un servizio per le fasce d'utenza più deboli. Per gli immobili di tipo abitativo, la Giunta Comunale di Udine, su richiesta dell'assessore al patrimonio Francesca Laudicina, ha assunto una delibera di natura tecnica per specificare quali facciano parte del patrimonio disponibile o indisponibile. Quelli che sono di natura indisponibile sono quelli che sono messi a disposizione diciamo delle persone con maggiori fragilità o con maggiori incapacità di natura finanziaria e quindi anche che hanno bisogno, magari nel frattempo, fino a quando trovano un immobile in via definita, di avere un posto dove sistemarsi per un periodo comunque non superiore a due anni. Quindi abbiamo fatto questo lavoro preciso di differenziazione in modo tale anche da avere un quadro ben definito e specifico per capire quali sono gli immobili sul quale magari possiamo utilizzare fondi di legati, cioè di persone che comunque insomma hanno lasciato delle risorse a favore del comune e delle persone che sono in difficoltà piuttosto che invece di quelle che invece non possono essere utilizzati così. Si terrà domani a Udine la conferenza regionale sulla lingua friulana. Oggi intanto è stata presentata quella relativa alla lingua slovena in programma il 12 e il 19 novembre. Come intervenire per migliorare la situazione delle comunità linguistiche minoritarie del Friuli Venezia Giulia? Domani all'auditorium Comelli di Udine si terrà la conferenza regionale della lingua friulana. Dopo la riunione di quella tedesca Sappada e il 12 e il 19 novembre ci sarà quella dedicata alla lingua slovena presentata oggi dal delegato del Consiglio regionale Igor Gabrovec e dall'assessore regionale delle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Il Friuli Venezia Giulia deve la sua specialità soprattutto a questo fattore, al fatto che in questa regione si parlino quattro lingue conosciute, riconosciute, l'italiano, il tedesco, lo sloveno e il friulano. Proprio perché stiamo parlando di un fondamento della nostra specialità c'è un obbligo, oltre che morale, per garantire alle persone che parlano quelle lingue di poterlo continuare a fare nei propri territori, anche un obbligo istituzionale dovuto al fatto di salvaguardare quelle competenze specifiche che noi abbiamo come amministrazione regionale. Una tappa fondamentale è proprio quella della verifica, quindi, delle conferenze regionali. Una tappa in cui si guarda quanto si è fatto, si cerca di capire se il percorso fatto fino ad adesso è servito e ha funzionato, ma si immagina anche il futuro per poter capire quali provvedimenti normativi o finanziari dovranno essere presi per poter promuovere ancora di più la presenza di queste lingue sul territorio. Gli incontri dedicati alla minoranza slovena si potranno seguire anche in streaming e saranno ospitati nella sede del Consiglio regionale. Via Giovanni Guerin sarà la nuova via di accesso principale a Ronchis, grazie a un cantiere di 3 milioni di euro finanziato da Autovie Venete. Sarà la nuova via di accesso principale al comune di Ronchis, via Guerin, a partire dall'ex casello dell'autostrada, grazie a un megacantiere, a un'opera infrastrutturale da 3 milioni di euro eseguita da Autovie Venete su delega amministrativa della regione. Si tratta senza dubbio di un lavoro di grande portata, spiega il sindaco Manfredi Michelutto. 40 agli espropri, una larghezza della carreggiata che arriverà a 6 metri, con l'aggiunta della pista ciclabile. Completo il rifacimento delle reti tecnologiche e quindi impianti fognari, telefonia, pubblica illuminazione. I lavori hanno preso avvio a fine agosto, partendo dalla palestra, per un lungo tratto fino all'altezza della curva, in un'area residenziale strategica per Ronchis. Si prevede la chiusura delle opere tra non meno di 12 mesi. L'intervento rientra tra quelli di compensazione per il paese che la concessionaria autostradale esegue su delega regionale in accordo con l'amministrazione municipale. Sempre più attenzione al territorio, alla sua identità e alle comunità che lo animano. Ruotano attorno a questo impegno le principali novità del palinsesso 2021-2022 di Telefriuli, che debutta questa settimana tra New Entry e Conferme, che è stato presentato in diretta questo pomeriggio. Ci colleghiamo in diretta con la direttrice di Telefriuli, Alessandra Salvatore. A te la linea. Grazie Alexis. Hai detto bene. Identità, territorio, comunità sono, restano e saranno queste le parole d'ordine, quelle che ispirano quotidianamente il nostro lavoro, che sono alla base del palinsesto. Un palinsesto che si arricchisce sul fronte dell'informazione, ma anche sul fronte dell'intrattenimento. Ci piace l'idea che voi telespettatori vi sentiate davvero a casa vostra nel sintonizzarvi su questo canale. Questo è un impegno che contraddistingue l'emittente in questi oltre 40 anni di storia. Nel corso del pomeriggio abbiamo annunciato, in particolare, quelle che saranno le novità del nuovo palinsesto. State vedendo le immagini che si riferiscono a Maman, giunta alla sesta edizione. La trasmissione è dedicata ai più piccoli per quanto riguarda la Marilenge, il friulano che ha un ruolo sempre più importante anche nell'informazione, perché una delle novità riguarda Novis, il nostro TG in friulano. Appuntamento ogni giorno alle 20.40, dal lunedì al venerdì. Le principali notizie della giornata in friulano, con interviste rigorosamente in Marilenge. Questo è il nostro contributo, nel nostro piccolo, per mantenere viva questa lingua, una lingua che parla di questo territorio, una lingua che parla delle nostre comunità. Friulano che quest'anno avrà un ruolo ancora più importante all'interno della trasmissione Ritorna Catine il venerdì sera alle 21, a partire proprio da domani. Ritorna Catine con Tai Break, un altro Izzir, assieme a Gianfranco Pacco, una friulana d'adozione e un triestino che si confronteranno, una coppia buffa che ci farà ridere, ci farà divertire, con questo confronto tra due modi di vivere, due modi di guardare alle cose, quello di una friulana, per quanto d'adozione, e quello di un triestino, che magari, chissà, si scopriranno più simili di quanto si possa immaginare. E poi l'appuntamento con Lo Sapevo, a partire da questo sabato, Lo Sapevo si sposta al sabato, ore 21, sempre con la conduzione di Alexis, si sfideranno ancora una volta le Proloquo, e anzi, un invito a tutte le Proloquo ad aderire, perché c'è ancora tempo per farlo. Una sfida fatta di domande, di quiz, che riguardano la conoscenza del nostro territorio, e riguardano poi anche il friulano, ancora più giochi, ancora più proverbi, sui quali confrontarsi, sui quali divertirsi. Friulano che è diventato davvero virale sui social, sfide che si giocano non solo in studio, ma anche nelle case. E un'altra novità, una gustosa novità di questo palinsesto, è Messede, che si tacche. Trasmissione curata e condotta da Tiziana Bellini, che esordirà proprio questo sabato alle 20.30. Ci sono sicuramente tante trasmissioni che parlano di cucina, ma questa è davvero particolare, dà un sapore squisitamente friulano. Protagoniste delle videoricette di Tiziana Bellini saranno le pietanze, i piatti della tradizione di questo territorio, preparati rigorosamente con prodotti del territorio. Ogni piatto, ogni pietanza sarà collegato a una tradizione, alla cultura del territorio. E poi tantissime conferme che riguardano le nostre prime serate. Se volete saperne di più, se avete perso la diretta di questo pomeriggio, ci sarà la possibilità di rivivere tutto questa sera a partire dalle 21. In studio anche le istituzioni che ci hanno seguito, ci hanno appoggiato, ci hanno garantito il loro sostegno da qui al Friuli. Lo diciamo in conclusione, un po' in sordina, ma è giusto ricordare anche questo per dare atto ai tanti colleghi che ogni giorno lavorano con passione, con impegno, per cercare di rendere il migliore servizio a voi telespettatori. Telefriuli si conferma stabilmente prima televisione del Friuli Venezia Giulia il mese di settembre con quasi 70.000 contatti medi giornalieri, contatti certificati dall'Auditel. E di questo non possiamo fare altro che dire grazie a voi telespettatori. Se volete scoprire qualcosa di più vi ricordo che potrete rivivere le emozioni della presentazione del nostro palinsesto alle 21. Grazie Alexis, ti restituisco la linea. Grazie a te Alessandra, noi siamo in chiusura, ma vi ricordo subito dopo la pubblicità l'appuntamento con Sport FWG. Il Ct della Nazionale Daniele Pontoni ha selezionato i 22 ciclisti che parteciperanno agli europei di ciclocrossi. Il programma in Olanda è il prossimo fine settimana, se ne parlerà tra poco Sport FWG. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli. Grazie a tutti.